Il momento della luce va in fondo, sentiamo il lontananza dell'uomo di Francesco Margherita. Inventiamo il GD pubblico a portare alla propria sinistra. Sta facendo il suo ingresso ragazzi, io sono un po' emozionata. Devo ammettere che è un momento particolare. Sta facendo l'ingresso la torcia ritmica del Stadio Grande Torino, scortata dalla polizia di Stato e portata dal tedoforo Marco De Martino, atleta di Vanghia e della società sportiva Panta di Torino. Accogliatelo con un grande applauso. E dell'applauso del pubblico. Il momento di unione e di coesione, un bel corso lungo centinaia di chilometri che ha attraversato tutta vita. Questa sera qui, allo Stadio del Grande Torino, arriva la fiancola della solidarietà, arriva la fiancola dell'inclusione, arriva la fiancola di Special Olympics. E adesso Francesco, viviamo insieme. Quelli che sono i passaggi più belli. ed ecco che la torcia sarà concediata all'ultimo tedoforo, l'atleta Special Olympics, Simone Perona. Simone Perona Simone Perona Simone Perona accompagnato dal Presidente dei CONI Piemonte, Stefano Mossino. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!